Abbiamo notizie che vi dobbiamo dare che riguardano, innanzitutto ho la conferma che c'è stata proprio lì al tavolo o attorno al tavolo la richiesta appunto di tenere Azzolina, Bonafede, la vicepresidenta a Fraccaro da parte dei Cinque Stelle e anche la difesa di Arcuri di cui vi parlavo prima. Ma c'è anche qualcosa che per quanto riguarda il verbale non c'è stato alla fin fine verbale e a quanto si afferma era una relazione di parte, qui però è una delle parti che lo fa capire, scritta dai Cinque Stelle su cui tutti hanno convenuto che non era il caso. Lasciate perdere. Ora, cari telespettatori, questa cosa che vi diciamo, mentre l'altra abbiamo contezza su riscontri incrociati, su questa abbiamo soltanto una versione del doveroso che ve lo dica così. Vi devo però dire che c'è invece una presa di posizione che viene citata per nome e cognome della capogruppo di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, che viene citata da Marco Di Fonzo, che è un giornalista parlamentare molto accreditato, oltre ad essere il presidente dell'associazione della stampa parlamentare. Restano distanze su molti punti programmatici. Siamo in una fase molto difficile. È difficile una strada diversa dalle elezioni. E qui per la prima volta un esponente di governo, di maggioranza, usa la parola elezioni. Evoca il rischio elettorale. Ma c'è anche un'altra presa di posizione. Crippa, che è il capo dei deputati dei 5 Stelle. Qualcuno voleva trasformare il verbale in un programma di governo. Il Movimento 5 Stelle ha fatto aperture. I punti di convergenza sono molti di più di quelli che ci dividono. E però il MES non era da porre sul tavolo. Questo lo riporto ancora a Di Fonzo. Lo vedete in questo tweet. Cosa? È lo schema di cui parlavamo prima. Cioè Fico stava interrogando... ...